Per chirurgia mininvasiva si intende tutte quelle tecniche chirurgiche che garantiscono al paziente un recupero rapido, sicuro e privo di dolore post-operatorio, con l'obiettivo di riportare la parte intervenuta ad una situazione di normalità. E proprio questa mattina è stato argomento di discussione durante il congresso di chirurgia mininvasiva per la cura della patologia emorroidaria presso la sede della Croce Rossa di Marotta. Una platea di specialisti nel settore, provenienti da tutta la regione Marche, un tavolo di scambio tecnico per affrontare al meglio la soluzione per la patologia e la cura delle emorroidi. Direttore del congresso, il professor Francesco Vittorio Gammarota. L'obiettivo è cercare il meglio per il paziente, questo è il nostro obiettivo. Quindi cercare di standardizzare il comportamento, cercare di fare sui pazienti una chirurgia, direi, sartoriale. Ogni paziente ha bisogno di un certo tipo di trattamento chirurgico. Noi come unità operativa complessa, come reparto, siamo in grado di fare tutti i tipi di interventi chirurgici che necessitano la patologia emorroidaria. Noi abbiamo da due anni, utilizziamo il laser a Dio di un'azienda multinazionale americana. Ci troviamo molto bene, circa il 70% della patologia emorroidaria da noi viene trattato con il laser. Niente dolore o pochissimo dolore e tempi di recupero molto molto veloci. Sempre più tecniche di altissima innovazione al servizio del paziente per la cura della patologia. HPS è una tecnica mini-invasiva per l'utilizzo della patologia emorroidaria. La patologia emorroidaria è molto più diffusa di quello che possiamo pensare. Considerate che almeno il 50% della popolazione generale, almeno una volta nella vita, si pensa che possa avere un problema emorroidario. Quindi l'HPS è una delle tecniche in uso a noi proctologi per la patologia emorroidaria. Questo è un congresso di confronto di tutta la proctologia marchigiana. Portiamo quale novità? Probabilmente la cosa più nuova è l'utilizzo del laser in proctologia. Il laser è un'arma a basso impatto per il paziente, impatto in termini di dolore, quindi di recupero post-operatorio, che ovviamente con le giuste indicazioni, perché non possiamo pensare di curare tutto con il laser, però sicuramente è un'arma in più che noi abbiamo e che dobbiamo utilizzare per la cura dei pazienti. Grazie.